Mezz'anno che mi solo tu. Un semplice messaggio che racchiude tutto l'amore di un donna che sembra aver trovato la sua metà perfetta in un rapporto nato contro vento, in un programma televisivo, ma che da sei mesi ha questa paura. Un semplice messaggio. Roberta Di Padua non ha paura di urlare il suo amore per Alessandro Vicinanza. Roberta Di Padua testimonianza ne sono una serie di scatti complici condivisi sui social da sei mesi a questa. La coppia sembra superare la grande la prova estate anche se non tutti credono alla purezza di questo. C'è chi sostiene che a settembre li rivedremo nel parterre del Trono Over. Chi li voleva in lizza per Temptation Island e chi semplicemente fa il tifo. Ci avevano già provato, ma lui, forse, non era pronto. Lei aveva versato molte lacrime per quell'amore che non voleva decollare e poi, a sorpresa, è arrivata quella proposta che sembrava poco convincente ma che ad oggi, dà ragione a dama e cavali.